In questo video rispondo a Rosario Timpa che mi ha scritto Ciao Giuseppe, mi piacerebbe conoscere la tua strategia di vendita per avere vendite più veloci. Tu come ti organizzi in tale proposito? Rosario, la mia strategia per essere più veloce nelle vendite è molto semplice. Parto ragionando sempre dalla fine. Cosa significa questo? Anziché andare a cercare operazioni all'interno della città in qualsiasi punto, prima evidenzio le zone dove ci sono molti volumi e molte richieste. Dopo aver stabilito la zona mi occupo di identificare qual è il taglio più richiesto. Quindi in quel determinato punto della città preferiscono bilocali, monolocali, trilocali, quadrilocali. Cerco di capire esattamente qual è il taglio per così dire più gettonato. L'ultimo passaggio è quello relativo agli importi. Quanto sono disposti a spendere le persone che vogliono andare in quella zona ad abitare scegliendo quella tipologia di immobile? Dopo aver fatto questa analisi non mi resta che cercare opportunità di trading immobiliare con quelle caratteristiche. Una volta trovata sarà semplicissimo essere molto veloci nella vendita perché comunque ci saranno già delle persone pronte ad acquistare quella tipologia in quella zona a quel prezzo.